Truffato per migliaia di euro, brutta avventura per uno studente universitario di Casalbuono. La notizia riguarda un 25enne di Casalbuono appunto. Alcune persone si sono finte carabinieri e attraverso una PEC che hanno inviato all'ufficio anagrafe del comune di Casalbuono sono riusciti a ottenere dati utili per mettere in atto la truffa. I malviventi hanno così svuotato la carta post-pay del 25enne studente dell'Università di Napoli. La richiesta al comune dei falsi carabinieri di Roma era motivata dal fatto che era in corso un'indagine a carico del giovane. Tutto falso, lo hanno scoperto anche i parenti una volta che il comune li aveva avvertiti. Ma nel frattempo la truffa era già in essere. I malviventi sono riusciti a falsificare i documenti dello studente, a cambiare il PIN della post-pay e poi a svuotare il conto con prelievi eseguiti tramite sportelli di Campobasso e di Benevento. Sul caso, ora indaga la polizia postale.